Manca poco a Natale e noi della B&D Production vi auguriamo un fantastico, unico, indimenticabile Natale con Beppe. Tanti auguri a voi e buone feste e buon anno. Ovviamente il nostro videomaker e con il fantastico fotografo Damiano. Tanti auguri a tutti quanti, buone feste a tutti. E per augurarvi un fantastico Natale unico, con noi abbiamo anche lei. Tanti auguri, buon Natale. Federica. Federica.